E un, due, tre! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Con le uova una torta farò! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Latte e farina una torta farò! Io sono un pasticcere Mi diverto a cucinare, sai? E sono proprio goloso E tante torte io preparerò! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Con le uova una torta farò! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Una torta farò! Sì! Latte e farina una torta farò! Che forte! Che divertente! È bello aiutare a far da mangiare in cucina. Pronti, amici? Pronti! Che cosa fai, Gil? Sto insegnando a questi pesciolini come devono lavarsi le mani. Cioè, no, volevo dire pinne. Bisogna sempre lavarsi le mani prima di preparare da mangiare in cucina. Ok, io sono pronto. Ora dovete insaponarvele per benino. E adesso sciacquiamole. Non esce neanche un goccio d'acqua. Mi chiedo come mai. Ehi, ragazzi, noi prepariamo dei dolcetti. Si va in gita! Signore e signori, abbiamo lavato le mani e preriscaldato il torno. È una giornata fantastica per fare dolcetti giocando a baseball. Presentiamo la squadra di casa, i Bubble Guppies Impasters! Dolcetti! Servirà un gran bel gioco di squadra per fare i dolcetti della Bubble Cream e assicurarsi il piatto di casa base. Il contatempo è impostato e la partita sta per cominciare. Sbattitore! Lo sbattitore non serve. L'impasto non è pronto. E vai! Sì! Preparalo! Ed ecco che arriva il più brocco! Ma è una brocca di latte! E adesso l'uovo! Sì! Corri, Ghillie! Il battitore porta l'impasto in prima base, dove una si affresta a mischiarlo con la frusta. Mischia! Una mischia l'impasto alla perfezione. Ghillie scatta in seconda base. Dovrà versare l'impasto nelle formine se vuole arrivare sul piatto di casa base. Versa! Svelto! Versalo qui dentro! Guardate che precisione, gente! Un vero campione! Terza base! È ora di infornare l'impasto e fare i dolcetti! Uh, i giocatori sembrano piuttosto confusi. Ci serve il tuo aiuto. Dobbiamo cuocere l'impasto se vogliamo mangiare i dolcetti. Dove dobbiamo mettere l'impasto? Nel forno o nel frigorifero? Nel forno! Nel forno cuoce l'impasto! Esatto, nel forno. Ma solo gli adulti possono usare il forno. Time out! È il momento di un breve intervallo di gioco mentre i dolcetti cuociono il forno. 15 minuti più tardi! Sono pronti! Ma manca l'ultimo trucco? Infatti arriva Noni con la glassatura. Le tortine sono guarnite! E sembrano deliziose. Deliziose! Ora Gilly non deve fare altro che portare i dolcetti sul piatto base prima che il contatempo scatti. Sbrigati, Gilly! Sto attento! Non devi farli cadere! No! 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 Salvo! E sono squisiti! Che trionfo! I Bubble Gappies e Fasters vincono la partita! No! 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 No!